Ciao a tutti ragazzi, bentorni su GP Games, ci troviamo su Dirty Bomb Ho sbloccato un nuovo PG che è Nader È una PG che ha come abilità il lancia granate E poi una volta che viene ucciso questo PG Può auto esplodere in modo da uccidere i nemici vicini Come ho fatto a prendermi, vorrei saltar Ciao a tutti è quasi morto però non l'ho ucciso completamente sarebbe abbia un medico poi sono tutti a quella parte questa parte non c'è nemmeno parca puttana vorrei sapere quando l'ha piazzata da me no ho fatto l'autodistruzione però non l'ha ucciso sono solo vado a prendere munizioni si ricarica anche il lanciagranate che in questo momento ne ho 4 da lanciare ma parca attraia no 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 guarda qua ci vede che si può rianimare a fare una granatta e ho visto un tizio al lì Ok. si comunque le granate possono aiutare quando c'è un gruppo di nemici tutto avvicinato come adesso immagino però che sia abbastanza rompicoglioni come pg per i nemici bisogno di munizioni bisogno di munizioni bisogno di munizioni è troppo il caso di salute ma la sorella farò un po di salute possiamo fare feste no Grazie a tutti Dai cazzo Occhio che lì c'è la mine Dai però Puttaneva Dai rianio No non abbiamo le mani mediche Questa mi salva il culo Ok 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 Quindi passano qua di alto Per cercare A Bisogna che in un paio Andiamo qui A A tenerli a bada E infatti hanno ucciso anche il nostro amico Vediamo poco poco Ecco Ecco cos'è che vi diceva dell'auto esplosione dell'autodistruzione allora per io vado di arti adesso perché bisogna distruggere questo cazzo di ivy mi sa che nessuno di questi ha le abilità per distruggerlo se si muove dai cazzo dai cazzo ce la possiamo fare dai cazzo dai cazzo ok un po' giù faccio anche da medico dai un'altra carica 5 secondi a a a a a Ok il round è vinto, bella Sì dai diciamo che nader può tornare utile a volte anche se sicuramente abbastanza rompimento di coglioni per i nemici che ogni volta non ci si dà una cazzo di granata di merda, non me darebbe fastidio Comunque il video si conclude qui, ci becchiamo al prossimo, un saluto da GP Games, bella